Andare a letto sempre alla stessa ora è meglio prima della mezzanotte, tenere il cellulare o l'ipad o comunque ogni dispositivo lontano nella mezz'ora prima dell'addormentamento perché le luci ci possono dar noia e ridere così da rilasciare un po' di endorfine e con un bel bagno caldo, una doccia calda, andare poi a letto.